Sul monte dei Tre Poggioli, al limite della provincia di Bologna con quella di Firenze, con l'intervento di tutte le autorità della provincia con a capo il prefetto, è stato inaugurato il monumento eretto dalla decima legio per ricordare ai venturi il vaticinio del duce fondatore dell'impero, pronunciato dall'alto di un carroarmato al termine delle grandi manovre dell'anno dodicesimo. Sul fianco allevante del fascio littorio, alto 15 metri che sovrasta il carroarmato, è riprodotta la scultoria frase con la quale il duce sintetizzò il concetto della nazione armata, le forze armate rappresentano l'elemento essenziale della gerarchia fra le nazioni.